Ragazzi bentornati in questo secondo episodio di Assassin's Creed 3, oggi ragazzi continua dal punto dove avevamo lasciato e si parte subito, però voglio ringraziarvi, ringraziare per tutti i like, per tutti i commenti nel primo episodio, anche se credo che qualcuno di voi abbia dimenticato il like, andate a recuperare, partiamo subito, Eytam Robbe, robe, andiamo ragazzi, partiamo proprio dove eravamo rimasti, precisissimi, andiamo Quindi, Oceano Atlantico, qualcuno di voi in live ieri sera mi ha detto di fare un video con gli occhiali, va bene, ma tanto poi la webcam nelle parti interessanti la tolgo, eccomi qua, va bene? Ora siete più tranquilli? Oh, dai, partiamo con quest'altro video, voglio proprio vedere che cosa succede, indaga sulla ciurma, dopo la scazzottata, vi ricorderete, si va qui, vediamo un po' cosa succede, cerchiamo di conoscere i personaggi, partiamo Allora, Eytam, eh Caspita, ma c'è un buio Però ci sta, alla fine siamo È più realistico Comunque si continuano a lamentare del capitano, eh Ehi, tu, ho delle domande da farti Fantastico, ma non ho tempo da perdere E poi cosa potrei avere di utile da dirti? Cerchi informazioni? Vai dal cuoco o dal medico Loro parlano con tutti qui Beh, non è poi una brutta... un brutto consiglio, ecco Qui abbiamo il cuoco Si mangia per altre due ore, ci sono gallette in stiva se muori di fame In realtà ho una domanda per te Chiedi pure Qualcuno degli uomini si comporta in modo strano o dice qualcosa di molto diverso dal solito? I ragazzi si lamentano delle razioni, come se potessi farci qualcosa Ma per il resto non mi dicono niente Un consiglio? Vai da James, sa sempre tutto lui E dove posso trovarlo? Proprio dietro di te, amico Su quel barile Sul barile, eh E questo? Ah no, gioca una partita Beh Ah ok Rifacciamo Sei tu, James? Sì Atom Kenway Lieto di conoscerti So già chi sei Speravo di poterti fare qualche domanda Lo immaginavo, ma non qui Seguimi Allora, cosa vuoi sapere? Hai visto? Ho sentito qualcosa di strano da quando siamo salpati Qualcosa che ritieni preoccupante Alcuni degli uomini si riuniscono ogni notte sul ponte Non ho sentito che qualche parola qua e là, quindi non so bene che cosa tramino Ma la vedo molto grigia Intendono ammutinarsi? So soltanto che detestano il capitano Mills ha cercato di tenerli buoni, ma Un uomo solo non può fare più di tanto Grazie dell'informazione Spero solo di arrivare vivo alle colonie Lo avevo detto Lo avevo detto ragazzi, c'era qualche problema col capitano Beh ma era ovvio E da quando abbiamo iniziato Il gioco che quasi lamentano Il capitano Però andiamo a vedere effettivamente Allora Io direi che Staremo ancora un po' in nave Passeranno giorni Sera signore Una sera Sera, tutto bene? Liscio come l'olio Come piace a me Cosa vi porta qua su? Volevo fare un giro Sgranchirmi le gambe Tutto qui Attento a dove andate Il ponte nasconde molte insidie di notte Cos'era? Oh Hanno lanciato del carico fuori bordo Ma perché? Bah Sicuramente vogliono Incentivare l'ammutinamento Lamentandosi di qualcosa Forse eh Magari Sto dicendo una cavolata Ok Vediamo che succede Fingete di lavorare? Non ce li meritiamo Certi russi Non è affatto giusto Che lui abbia arrosto il vino E noi soltanto Stocca fisso e gallette Qualcuno deve fargli un discorsetto Dalla finestra? Strano Molto strano Il motivo più che altro C'entra l'ammutinamento Giorno 33 Vedete Continuano a passare i giorni Comunque Certo che è un inizio particolare Per un Assassin's Creed No? Loro non mi sembrano Eitam per esempio Non mi sembra per niente un assassino E ha già la lama celata Non capisco Novità? Ogni notte è lo stesso Per lustro una zona E buttano i barili dipinti da un'altra Devo assoldare un secondo paio di occhi Magari James o Mills Ma perché lo fanno? Se ho ragione I barili servono da segnali Lasciano una traccia Temo sia soltanto questione di tempo Prima che gli inseguitori Nave in vista! Si prepara a sparare Ai vostri posti Pronti a Che tempismo Tenersi tutti giù Un colpo a salve Sembra che non vogliono affondarci Ma abbordarci Uomini ai posti Pronti a combattere Li voglio sotto coperta Perché? Posso difendere questa nave? La sapete essare una vela? Caricare un cannone? Combattere in mare? Non credo Ora tornate in cabina Oppure devo farvi scortare giù Ma Che caratterino Chiudete il boccaporto Oh Eitan Sei stato lì sopra C'è una nave in vista E vuole abbordarci Ma è strano Nessun ammutilamento a bordo Non ha senso Ah Ma ce l'ha Che vuoi dire? Pensavi di scappare da Londra Così facilmente Dopo l'omicidio all'opera Senza che ce ne accorgessimo Senza che ti seguissimo Ah Così si spiega tutto Arrenditi E verrai trattato con ogni onore Se vuoi trattarmi con onore Dammi una spada Vuoi davvero Tentare la sorte in questo modo? Ma che Ma Milse È Dalla sua parte Cioè Fa parte del suo gruppo È un templare Un assassino Che succede? Non hanno ancora dichiarato Le loro fazioni Capito? Mer Ehm Ah sì? Riprende la spada Ma che figa testo Oh Che figo il combattimento Asti Ma perché mi tira i puni? Forza Cagasotto Si è buggato sopra Non può scendere Approfittiamo Oh Dai che ci siamo Aspita Che strane le telecamere però Milse non ha più vita Dovete restare sotto coperta Vi ho dato ascolto Ma Milse mi stava aspettando È lui che ha portato quella nave qui Non c'entra la ciurma Solo lui Che cosa vogliono? Me Che vi prendano Ah è così Ci raggiungeranno Non si può far nulla Forse ho un'idea Volete che entri in quella tempesta? Non abbiamo scelta Non lo farò Lo farò io Va bene Va bene Che storia intricata ragazzi Ancora non si è capito Comunque loro non hanno dichiarato ancora le loro fazioni Voi non spoilerate Che per me è la prima volta che lo gioco Quindi Non rompete le balle sotto questo aspetto Ho visto già qualcuno che ha cercato di spoilerare Ma non serve ragazzi Non serve Assicuriamo quelle cime Lo dicevo Era da basta Calmatevi Sistemerò io la vela Ah la sistemi tu? Ah no qua la sistemo io Altro che te Ormai ragazzi Siamo Guarda non vedo l'ora anche di Black Flag Però ormai sulla nave è casa Mi sento a casa In qualche modo E vi stavo dicendo Ma Mills Non ha dichiarato da che parte sta È un templare Un assassino Eitan Da che parte sta Avete notato questa cosa? È una storia che è partita veramente In modo particolare Ce lo vogliono nascondere Si vede Oh no E basta però Che cos'è? Non mo' la reta All'albero? E come ci salgo? Ah ecco Ok Ok Però devo arrivare dall'altra parte Raga Ehm Che brutta roba Ehm Ok Con calma Come caspio ci arrivo Ci provo fra Attendimi Credici Ho perso il cappello Ma? Sono stati distrutti Dalla tempesta Ma noi no Giorno 72 Uh 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 Beh un po' devastati Però sono passati parecchi giorni In teoria no? Il fatto è proprio questo Sono passati parecchi giorni Sono passati parecchi giorni Così erano gabbiani La terra dovrebbe essere vicina A questo punto State pronti all'attracco Uomini Attracco? Non c'è niente Solo una nebbia infinita I gabbiani I gabbiani sono delle buone guide Salite sulla coffa E vedrete Caspita ragazzi Ha visto? Haha Ormai anch'io sono Un lupo di mare Si può dire Andiamo La coffa L'alberello Ancora più in alto E poi? Ed eccola qui Uuuuuh Uuuuh Direi che come inizio Non c'è male Ora bisogna capire Dove ci porterà La sincronizzazione Dei ricordi Boston 1754 Mastro Kenway Mastro Kenway Si posso aiutarvi? Charles Lee signore Lieto di conoscervi Mi hanno chiesto Di mostrarvi la città Di aiutarvi Oh non occorre Ho chiesto di portare I vostri bagagli Alla locanda Per caso tu sei il figlio Di John e Isabella Il solo è unico Sei agli ordini Di Edward Braddock È così? Già Ma non è ancora giunto In America E pensavo che Beh Che non arriva Insomma Sì Dimmi pure Perdonatemi signore Io Speravo di diventare Il vostro allievo Se devo seguire l'ordine Non posso immaginare Un mentore migliore di voi Molto gentile Ma credo che mi sopravvaluti Impossibile signore Di qua L'ordine Seguire l'ordine Dovete fermarlo Eh non posso signora Che roba Boston è una città vivace Ci sono tante cose da fare e vedere Una volta sistemato Vi suggerisco di passeggiare per le strade Potresti imbattervi in qualche buon affare Fermati un attimo Devo prendere alcune cose prima di iniziare Cerco dei cavalli nel frattempo Ok La mappa La mappa di Boston? Oh cavolo Perfetto Zone liberate 0 su 3 Botteghe sbloccate 0 Missioni Cittadini sbloccate 1 Tipo? Wow però Che ne dite? Boston? E potrebbe essere anche più grande del previsto Però vabbè Vediamo un pochino cosa ci propone Da questa parte C'è il magazzino Wow A Boston Tipo Tutto a Boston Raga Ok Sia noto che i rappresentanti della colonia Dammati ladri Questa lurida città sarà la mia tomba Sembrate nei guai amico E infatti è così Grossi guai temo Che accade? Mi hanno derubato Tutti questi fogli E anche se ho riavuto ciò che è mio Temo sia rovinato Il libro di te? Non è un banale libro È un almanacco Il primo che ho scritto Benjamin Franklin Molto lieto Eitan Kenway Voi non siete di Boston Perché dite così? Siete ancora un uomo onesto Vi fermate ad aiutare un vecchio pazzo Io non voglio insistere Ma sembrate un tipo sveglio Se doveste trovare le pagine mancanti Vi ricompenserò Ecco io non so se... Va bene va bene Se avete tempo è viva Se no pazienza Quel libro è inutile allo stato attuale Ma se mai riusciste a sistemarlo Mi troverete in quel grande magazzino laggiù Beh È stato interessante Era Benjamin Franklin Ma che cazzo Scusatemi un attimo Ma Io non mi aspettavo sicuramente Ragazzi Ma era Benjamin Franklin Un founder's father No eravamo uno dei padri fondatori Comunque Caspita Non ci credo Vabbè Facciamo finta di niente Andiamo avanti Che roba Benjamin Franklin Ci mancava solo questa Compro una spada e una pistola Ah entrambe Ok 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 Allora Quindi dovrei avere ovviamente i soldi Andiamo con La pistola Sì Figo E Una classica spada Ok ragazzi Vediamo un po' cosa succede Ok le ha equipaggiate Guardate Assurdo Segui lì Fino al Green Dragon A cavallo Uh Wow Andremo alla taverna Green Dragon I proprietari sono eccentrici Le stanze sono ampie E nessuno ci noterà Ti hanno detto perché sono venuto a Boston No Mastro Birch dice che devo sapere solo ciò che voi volete dirmi Mi ha inviato una lista di persone e mi ha ordinato di farvele incontrare E hai già organizzato tutto Sì William Johnson ci sta aspettando al Green Dragon Quanto bene lo conosci Non molto Ma ha visto il segno dell'ordine E non ha rifiutato l'invito Dimostrati leale alla nostra causa E ti metterò al corrente dei nostri piani Non chiedo di meglio signore Ma che ordine Cioè Non lo so ragazzi Ma puzza tantissimo questo inizio Cioè questo Eytam secondo me Non lo so Spero sia un bravo uomo ma Trovo un inizio molto strano Devo dirvi la verità Ok Sarà sicuramente qui Certo il segnalino è spuntato dopo Ma bastava seguire Charles Bugiardo Purfante Maledetto bastardo Capitiamo in un brutto momento Oh Non siate sciocchi cari Prego Sedete Gradite qualcosa da mangiare? O da bere forse? O vi serve un letto? Abbiamo prenotato due stanze Oh sì Ma certo I signori lì E Kenway Giusto? Vi faccio portare su i bagagli Vi occorre qualcos'altro Stare tranquilli Di qua Ha un'atmosfera particolare Questo gioco ragazzi Partito veramente molto tranquillo E con tanto mistero Sul Sull'ordine del protagonista Poi magari è solo una mia sensazione Signore William Johnson Piacere È bravo Ma un po' serioso So che state preparando una spedizione Pare ci sia un sito dei precursori nella regione Mi serve la vostra conoscenza di luoghi e persone per trovarlo Ahimè Le mie ricerche sono sparite Senza non posso aiutarvi Noi le troveremo Avete indizi? Il mio socio Thomas Hickey Sta indagando È bravo a ottenere informazioni Bene Ditemi dove trovarlo Cercherò di accorciare i tempi Abbiamo saputo di alcuni banditi che vivono in un covo a sud ovest È probabile che sia lì Charles Signore? Meglio muoversi Ma certo Ok A caccia di banditi quindi Vediamo un po' Però mi dice di seguire ancora Charles Non sono ancora libero Effettivamente Però dovrebbe aprirsi questa missione A caccia dei banditi probabilmente Ma sono ancora Scortato da Charles Sentite questa calma? Cioè È particolare come gioco Come inizio di un Assassin's Creed È molto tranquillo È pieno di topi Se non c'è È un'atmosfera particolare Thomas Hickey? Chi lo chiede? Atom Kenway Dovrebbe dirmi qualcosa? Un po' di rispetto, amico Calma, Charles William Johnson ci ha mandato qui da te per abbreviare l'indagine Non c'è niente da abbreviare E non mi piacciono neanche i vostri modi sofisticati Ho già trovato gli autori del furto Allora perché stai perdendo tempo? Sto pensando a come liquidare quei forfanti Ho un'idea Sentiamo Io uccido la guardia E mi apposto alle spalle degli altri Voi due arrivate da davanti Quando apro il fuoco su di loro Voi entrate Avremo l'effetto sorpresa Metà di loro morirà Prima ancora di capire che succede Ma perché la vedo così male, ragazzi? Perché? Tieni premuto per mirare Mentre tieni premute le due Premi R2 Per sparare Ok? Oh Mettetevi in posizione Ok Ma attendete che io apra il fuoco Ok ragazzi Io direi che Devo andare alle spalle Giusto? Quindi Dovrei riuscire a fare questa strada? In teoria eh Pensa te Voi due Spari Wow C'è? Non ci credi Spara una guardia All'ingresso del forte Ma pensa te raga Indietro Su Saremo sicuri qui dentro E adesso Quelli faranno saltare la porta Avanti Sparate Ok Vediamo Ora ci divertiamo Recupera lo scrigno rubato Non era poi tanto sicuro qui dentro Gettate le armi E magari Vi lascerò vivere Vi faccio la stessa offerta Niente di personale Voglio ridare questo scrigno al legittimo proprietario Non c'è niente di legittimo in Johnson Non lo ripeterò Va bene Ehm Ok Eh non te l'aspettavi eh Non se l'aspettava il contrattacco con La presa anche dell'arma Quelli come te non rubano libri e mappe Chi vi ha mandato? Non li ho mai visti Comunichiamo con messaggi e lettere Ma ci pagano bene E noi obbediamo Beh Questa storia è finita Riferisci questo ai tuoi padroni E quale sarebbe il tuo nome? Non importa Mi conoscono Ehi Tam Questo ha un po' di munizioni addosso Ti conviene prenderle Visto che la tua pistola è a secco Bella idea Ci stavo pensando anche prima Tutti questi morti Su torniamo al Green Dragon Voglia di bere Aspetta fammi recuperare no? Ok Ma chi? Tieni d'occhio allo scrigno Charles Noi sistemiamo questi pezzi E ditelo no? Ho bisogno d'aiuto E andala a disegnare Arriva Uh Ragazzi Ma la parata Posteriore Chiamiamola così Devo capire chi ci attaccherà Magari anche prima Vediamo se lì in fondo c'è qualcuno Sembrano tutti però Lavoratori Contadini Dove? Ma Ce n'è ancora Eccola lì Ok scusa ma non avevo molto tempo per ricaricare Cosa vuoi che sia Non sono i furfanti che mi preoccupano Ehi Il signor Johnson dovrà raddoppiarmi la paga dopo tutto questo se vuole che resti con lui Come minimo Eccovi qui Vi ringrazio Mastro Kenway Ora Ditemi cosa vi occorre I segni su questo muleto vi sono familiari? Qualche tribù vi ha mostrato roba simile? Si direbbe Kanyengahaka di origine Sapete indicarmi un luogo preciso Devo sapere da dove viene Con le mie ricerche in mano? Forse Vediamo che posso fare Thomas Eh Prenditi una stanza E fatti un bagno Credo che ci fermeremo qui per un po' E qui ragazzi Tanta roba Benjamin Franklin Ok Quindi Non lo so Però Non vedo l'ora veramente di scoprire Le prossime missioni Perché Secondo me È molto interessante Questo gioco Questo periodo storico Molto 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 Interessante E spero di avere altri contatti con Benjamin Sicuramente Sicuramente li avremo Perché è stata la presentazione di un qualcosa Quella Quindi Vedremo un po' Forse di collezionabili O qualcosa per sbloccare Eh Appunto dei dati O Non lo so Non lo so Però la curiosità è tanta La curiosità è tanta E E non vedo l'ora di andare avanti Quindi ragazzi Noi ci vediamo nell'episodio 3 Perché Davvero qua A questo punto Non vedo l'ora Spero già di portarvelo domani Quindi Ogni giorno un episodio Vediamo un pochino come va Una volta che si parte Perché siamo ancora in una sorta di intro in realtà Una volta che si parte Potrò magari Pensare anche di farvi Un giorno con due episodi Vediamo un pochino Vediamo un pochino Per adesso Partiamo piano Così tutti riuscite a vedere la intro Quindi episodio 1 Episodio 2 E poi Andiamo avanti Grazie a tutti ragazzi Un abbraccio e un bacione E noi ci vediamo nel prossimo video Con Assassin's Creed 3 Alla prossima